Proporre un concerto così importante è un onore per tutti noi, è un concerto al quale abbiamo lavorato per tanti mesi ovviamente siamo riusciti con l'aiuto anche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a proporre questo evento meraviglioso alla città con un'orchestra fantastica e con uno dei più importanti direttori della storia per cui deve essere un orgoglio anche per la città avere un concerto del genere che vuole essere non un concerto singolo ma l'inizio di un percorso di altissimo livello musicale che verrà proposto lungo tutta la stagione e ovviamente il Teatro del Maggio Musicale con la sua orchestra e con Zubin Meta è stata una delle prime idee anzi la prima idea che abbiamo avuto per cui ci abbiamo lavorato siamo riusciti ad organizzare questo evento e ovviamente è una grande soddisfazione Insomma è stata una bella sorpresa per tutti è il coronamento di un lavoro importante svolto dalla fondazione, svolto dal presidente, svolto dal direttore artistico svolto dal direttore Cinatti con un contributo fondamentale da parte della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ci vuole bene e che sta lavorando secondo me correttamente per l'allargamento dei tesori fiorentini anche ad altre realtà municipali della Toscana quindi tutto questo ha confluito nell'apertura di stagione al nuovo auditorium con la creazione di Haydn prodotta dal Maggio Musicale Fiorentino diretta da Meta quindi uno spettacolo sicuramente di altissimo livello che immagino e spero piacerà a tutti gli aretini e non aretini che avranno la possibilità di venire ad ascoltarlo dico avranno la possibilità perché stiamo andando verso il sold out quindi chi veramente vuole un biglietto bisogna che si affretti a cercarlo Saranno circa 500 i posti? Dovrebbero essere in tutto 600, sono 600 perché l'allestimento, la produzione prevede quasi 100 elementi fra coro e orchestra, poi ci sono tutti gli strumenti questo ci ha costretto a dover rilevare alcune file di platea